La cosa è già venuta fuori, ne hanno già parlato sia Giacchè che Nicita, cioè bisogna che guardiamo a questo tema della disinformazione in modo trasversale, cioè dobbiamo mettere a tema, dopodiché poi potremo arrivare a delle soluzioni, anche io non ho soluzioni da proporre, dobbiamo mettere al tema il fatto che dedicare l'attenzione esclusiva al web che già non vuol dire niente perché come Nicita ci ha spiegato molto bene sono cose che più o meno avete già annusato nel corso delle lezioni, una cosa è un blog ovviamente, una cosa è il tipo di feed che ti viene attraverso una mediazione algoritmica, ecco concentrarsi su quello ci fa perdere una capacità di analisi, una ricchezza di analisi che invece potrebbe esserci molto utile per affrontare il tema in modo non improvvisato, non sull'onda dell'emozione o magari trascinati dall'emergenza del fatto che Trump ha vinto le elezioni o che ha prevalso la Brexit, che sono ovviamente, concordo, motivazioni per linee di ricerca semplicemente inaccettabili. E quindi vorrei provare a vedere a bocce ferme, cioè prima che ci interveniamo o soltanto alla luce di come ci si è intervenuti fino adesso, qual è il regime giuridico della, perché io ahimè ho questo limite essenziale, sono un giurista, qual è il trattamento che riceve la verità in questi ambienti diversi? Proprio perché in realtà gli utenti, me consumatori franciacamente non mi piace tanto, preferisco cittadini, ma va bene, poi vediamo quali sono le possibili conseguenze di queste differenziazioni, forse non soltanto nominali. Cittadino è sempre lo stesso, poi i mezzi sono diversi, ma quello che riceve, che interagisce è sempre lui, e quindi domandarsi se ci sono delle differenze nel trattamento della verità e se queste differenze sono giustificate, si giustificano, hanno una relazione di razionalità con quanto e come sono diversi questi ambienti mi pare una domanda preliminare per poter cominciare a discutere se e come intervenire. Innanzitutto per capire, poi appunto, prima capiamo, poi vediamo se è il caso di intervenire su questo, sono assolutamente in linea con quello che ha detto adesso Nishita. Partiamo da questa nozione di disinformazione, perché uno dei pregi poi ci sono anche grossi difetti, ma insomma uno dei pregi del fatto che la Commissione europea abbia nominato un high level group on fake news, insomma quelli lì che hanno poi fatto il documento da cui ha preso le mosse tutta la successiva politica dell'Unione negli ultimi mesi, perché non è neanche quasi un anno che abbiamo cominciato, è il fatto che ha tolto dal campo la nozione di fake news, mi ha proposta una molto più circostanziata, quella di disinformation, che quindi ci consente di lavorarci un pochino meglio perché è uno sforzo definitorio non indifferente. Allora, il gruppo di esperti indipendenti, elevato, forme di discorso che cadono al di fuori di ciò che già è illegale, ok? Questo è un punto fondamentale del nostro discorso, tanto perché ci chiarisce che anche in rete, come nei media tradizionali, esiste una serie di regolamentazioni che rendono illeciti una serie di discorsi e che il discorso sulla disinformazione si concentra in modo particolare dove queste misure non arrivano, perché dove arrivano queste misure? Viva Dio, l'ordinamento si è già organizzato per proteggere chi è diffamato, per proteggere chi è offeso, per proteggere, così via. Ma che, ciò nonostante, possono essere dannose? E questo è il secondo punto. Il tema della disinformazione, quello che si mette a tema, è il fatto che esistono forme di discorso che non sono illegali ma che presentano dei pericoli. La Commissione Europea viene dietro al gruppo, elabora una comunicazione al Parlamento e al Consiglio, tackling, contrastare la disinformazione, qui c'è una linea, come dire, l'intervento della Commissione Europea, ha già preso in qualche modo la decisione che questo fenomeno, che vi ho tratteggiato molto rapidamente, non sono forme di discorso illegali ma sono pericolose, comportano dei danni, possono comportare dei danni, debba essere contrastato. Allora, rispetto alla mozione che faceva adesso in Icita, eh, insomma, ecco, infatti, poi su questo magari ci torniamo. Qui la Commissione ha già espresso una valutazione in termini di policy da mettere in campo. Siamo sicuri che l'abbiamo capita bene, l'abbiamo studiata, eccetera. Noi intanto le vogliamo contrastare. La disinformazione è, in questa definizione, qui si usa information, si potrebbe utilizzare news, ma insomma, falsa, in modo verificabile, potremmo dire fattualmente falsa, o, attenzione che qui c'è una parolina magica, c'è scritto o, quindi sono due nozioni alternative tra loro, oppure misleading, ingannevole, che è creata, presentata o disseminata, o per farci soldi, oppure per intenzionalmente ingannare il pubblico, e che può causare, eccoci qua, public harm, dei danni, dei pregiudizi di rilievo pubblico. Poi questa definizione chiarisce quali sono questi pregiudizi di interesse pubblico. Sono pregiudizi, anzi, minacce, qualcosa che ancora non si è verificato, ma potrebbe verificarsi, quindi è un giudizio di carattere preventivo, ai processi democratici di formulazione delle politiche, di attuazione delle politiche. Quindi, stiamo parlando di discorsi falsi, oppure ingannevoli, che possono determinare, fuori dal campo di ciò che è illegale, pregiudizi alla formazione del processo democratico. Ora, come facciamo a usare questa nozione che è stata pensata per la rete, anzi, come ha giustamente detto Nicita, per le piattaforme algoritmiche, per Google, per Amazon, per Facebook, per YouTube, eccetera, come facciamo a utilizzarla per fare questo confronto con ambienti informativi vecchi e nuovi? Io ho provato in questo modo. Questa è la definizione di propaganda che voi trovate nel dizionario Treccani, che mi sembra una fonte affidabile. Azione che tende a influire sull'opinione pubblica orientando verso determinati comportamenti collettivi e l'insieme dei mezzi con cui viene svolta. C'è l'intenzionalità, la volontà di incidere sulla formazione dell'opinione pubblica, poi c'è sotto al punto 2 la definizione per estensione, complesso di notizie destituite di ogni fondamento, diffuse ad arte, con lo scopo di per fini particolari. Soprattutto questa seconda a me pare ampiamente, non completamente, ma ampiamente coincidente con quella di disinformazione. C'è l'intenzione di fare qualcosa, c'è la falsità, ci sono le finalità per le quali si muove questa intenzione. Quindi se a fini particolari sostituite processo politico-democratico e se a notizie destituite di ogni fondamento aggiungete, perché qui non c'è quindi a notizie false, notizie ingannevoli, ci siamo, è sostanzialmente la stessa cosa. Prima di procedere, questa nozione di intenzionalità dell'inganno ai nostri fini, come vedremo, è assolutamente centrale. Sia nella definizione di propaganda che in quella, come abbiamo visto, attigua di disinformation, il fatto che chi la agisca abbia una determinata intenzione ben definita fa parte costituente della nozione. Non è altrettanto chiaro invece se debba essere altrettanto consapevole e intenzionale il falso quando c'è. Perché in queste definizioni non è chiarissimo. Io direi di sì. Su questo la definizione che trovate nel documento dell'Agicom di dicembre scorso è molto più chiara, prende una posizione molto più netta perché dice artfully created. L'Agicom almeno per i suoi fini il punto lo chiarisce, dice no no, c'è solo l'intenzione di ingannare, c'è anche la consapevolezza della falsità. Guardate che questo punto è fondamentale perché l'articolo 21 della Costituzione protegge la libertà nella diffusione del proprio pensiero e quindi buona parte della dottrina costituzionalistica italiana ritiene che quando si diffonde consapevolmente una notizia che si conosce essere falsa quella notizia quell'azione non è coperta dal 21 della Costituzione che quindi è una conseguenza in termini giuridici molto rilevante. Allora nei media tradizionali la verità sostanziale dei fatti è un obbligo inderogabile dei giornalisti la verità dei fatti è un dovere giuridico deontologico la verità putativa qui ci sono in gran parte i miei studenti di diritto di informazione quindi questo lo sapete se non lo sapete studiatelo perché all'esame ve lo chiedo la verità putativa è uno di quei tre elementi che consentono a chi esercita il diritto di cronaca di ledere la reputazione altrui senza subire le conseguenze penali e civili del caso in questo ambiente così presidiato dal punto di vista della verità sostanziale dei fatti accadono le cose che ci ha raccontato Giacché ok? la propaganda ha un rilievo giuridico in questo ambiente tradizionale dove la verità è così trattata a me sembra che abbia rilievo la verità soprattutto nella misura in cui la legge sulla stampa garantisce il diritto alla rettifica chi ritiene che sia chi ritiene secondo la sua opinione che quello che è stato raccontato su di lui non corrisponde a verità ha il diritto di aggiungere la propria verità la propria lettura dei fatti a quella che è stata rappresentata l'altro elemento che secondo me è fondamentale è il fatto che l'articolo 21,5 della costituzione apre alla trasparenza dei mezzi di finanziamento cioè siamo consapevoli che c'è la propaganda cioè che le notizie vere o false che siano possono essere utilizzate per indirizzare l'opinione pubblica questo è vietato? no è lecito è lecito ma ce lo possiamo permettere nella misura in cui chi riceve queste informazioni sia consapevole che dietro quella testata quella c'è un interesse cioè c'è qualcuno che ci mette i soldi o che è ideologicamente votato in una certa direzione e quindi noi siamo in grado di fare la tara alle notizie che ci vengono che ci vengono offerte ok salto perché su alcuni punti già ci siamo stati è inutile ripeterli ok la propaganda nel vecchio diciamo nei mezzi tradizionali nei media mainstream è un fatto fisiologico se e nella misura in cui è accompagnato da misure che consentono ai cittadini di essere consapevoli di qual è il quadro degli interessi che stanno sotto i soggetti che svolgono l'attività di informazione concordo con Giacchè il punto è che l'opinione pubblica sia messa nella condizione di essere critica cioè di ricevere interagire con l'informazione in modo critico in modo consapevole e quindi critico vediamo cosa non c'è in questo ambiente tradizionale non è contemplata la rimozione o il declassamento della notizia non c'è uno strumento giuridico al quale possiamo fare riferimento se parliamo di cose lecite di notizie lecite che consenta a chiunque di togliere le notizie o declassarle cioè renderle meno visibili non sono non sono contemplati interessi pubblici il cui danneggiamento giustifichi il blocco della circolazione delle notizie anzi il meccanismo è costruito esattamente in termini inversi quante più notizie sono disponibili se è realizzata quella condizione di consapevolezza tanto meglio funzionerà il sistema democratico in presenza di falsi ritenuti tali o oggettivamente tali la verità putativa o effettiva si aggiunge al discorso non sostituisce non cancella lasciatemi dire quest'ultima cosa la categoria dell'inganno salvo in alcune fattispecie penali non casualmente non ha un rilievo giuridico l'inganno e torniamo alla calma e torniamo alla disinformazione allora prima vi ho sottolineato il fatto che questa nozione di disinformazione subito si biforca perché rientrano in questa nozione sia le informazioni false sia le informazioni ingannevoli cioè per essere ricondotti entro questa categoria è sufficiente che una insomma una qualche una cosa che si muove sul web può essere un post può essere una foto può essere un discorso può essere x sia considerata ingannevole creata presentata intenzionalmente eccetera o tenete conto del fatto che in questa nozione la falsità non è al centro quello che è al centro è l'intenzione dell'inganno tant'è che nel codice nel code of practice che la commissione ha stipulato con facebook google twitter e mozilla c'è scritto chiaramente che le azioni contenute di cui adesso vi parlerò non possono essere intraprese esclusivamente sulla base del fatto che una certa informazione è ritenuta falsa non basta la falsità cioè occorre ragionare anche occorre quindi una valutazione un apprezzamento della presenza di una minaccia al processo politico democratico e decisionale pubblico ci sia l'intenzione di ottenere questo risultato e chi la fa questa valutazione se date una scorsa io qui ho fatto un'opera di sintesi perché sono molto più sgranati nel codice nel code of practice della commissione europea quali sono le azioni che le piattaforme si impegnano a fare to take this information e guardate che le ho per comodità distinte in due colonne in quella azzurra trovate delle misure che sono sostanzialmente analoghe a quelle che abbiamo visto funzionare nel sistema dei mezzi tradizionali la trasparenza mi arriva una pubblicità elettorale ho il diritto di sapere chi è che me l'ha mandata la trasparenza sul targeting politico perché a me qual è stata la profilazione consapevolezza trasparenza sviluppare applicazioni e servizi che rendano più semplice l'accesso a punti di vista differenziati su argomenti di pubblico interesse pluralismo la fairness di cui ci parlava prima Nicita tutte queste cose corrispondono coincidono hanno lo stesso modus operandi del sistema dei mezzi tradizionali trasposto in questo ambiente nuovo ma non ci sono solo queste come misure to tackle disinformation c'è anche diluire la visibilità della disinformazione io ritengo che un'informazione sia falsa e o ingannevole e allora devo fare in modo che nel feed di chi la riceve su facebook sia contornata da qualcosa di non falso e non ingannevole chi lo decide priorità priorità e visibilità contenuti autentici ed autorevoli per cui adesso non so se qui dentro ci sono degli antivax o dei no-vax che sono due definizioni odiose ma se voi adesso andate su twitter e cercate dei contenuti di questo genere quello che fa twitter ad esempio negli stati uniti è dirvi guarda che le cose affidabili stanno in questo sito del no no anche twitter lo so sì stanno in questo sito del del ministero della sanità perché quella è una fonte è una fonte autorevole supportare gli efforts indipendenti e in buona fede compresi quelli della commissione europea volti a tracciare la disinformazione che aiutiamo noi a vedere dove sta la disinformazione noi commissione europea noi adesso vi farò un esempio eccetera così tu puoi più agevolmente take intensificare e dimostrare l'effettività degli sforzi atti ad assicurare l'integrità dei servizi di piattaforma con riferimento agli account le cui finalità e intenzioni consistono nella diffusione di disinformazione che è un periodare un pochino complesso ma sta dicendo individuiamo insieme punto precedente chi è che ha intenzione di diffondere disinformazione così lo possiamo diluire lo possiamo bloccare lo possiamo cancellare queste cose le fanno le piattaforme su un mandato della commissione europea non c'è una legge che le proede c'è un atto un accordo tempo si sarebbe detto un accordo di rilievo pubblico una convenzione pubblicistica in cui il soggetto pubblico affida a soggetti privati di operare così se noi vogliamo andare a vedere e magari impugnare una legge che riteniamo lesiva della nostra libertà di informazione c'è se un giudice vuole andare a cercarsi un parametro per applicare questi criteri c'è questo distanziamento tra il regolatore e il regolato con in mezzo le piattaforme che insomma in termini di trasparenza non brilla confronto finale sui social la propaganda è attivamente contrastata sui media tradizionali no mi sembra una differenza rilevante poi nel secondo giro proverò a dire se ci sono gli elementi che giustificano oppure no questo che però mi pare evidentemente una differenza significativa nei media tradizionali la propaganda è un fatto fisiologico che ha una serie di contromisure alcune delle quali ritroviamo anche in questo diverso modello regolatorio la trasparenza la consapevolezza ma in questi nuovi mezzi ci sono anche misure atte a contrastarla direttamente questo significa che la censura è uno degli strumenti a disposizione e si ha un bel dire che no perché quelli sono soggetti privati è una relazione tra utente e fornitore del servizio e il divieto di censura primo emendamento della costituzione degli Stati Uniti ma anche articolo 21 comma secondo della nostra costituzione riguarda solo il rapporto tra autorità e libertà perché qui il mandante è l'autorità è la commissione europea concludo concludo poi vi faccio un esempio i mezzi tradizionali hanno in mente sistema della trasparenza dei mezzi di finanziamento un utente reso consapevole che quindi è in grado di operare una cernita critica delle informazioni che riceve tutto questo meccanismo di to tackle disinformation contrasto alla disinformazione presuppone un utente inconsapevole irrimediabilmente inconsapevole e quindi un atteggiamento essenzialmente paternalistico non ce la fa virgola non ce la può fare interveniamo noi gli diciamo quali sono le fonti affidabili e quali non lo sono gli diciamo dove andarsi a cercare le informazioni che sono autorevoli diluiamo le informazioni brutte lo vedete che sono proprio due modelli antitetici secondo quale schema ne ha già parlato Nicida l'altro giorno ha circolato in rete questa notizia che immagino abbia circolato perché facebook ha fatto un comunicato stampa ai giornali perché poi io a cercare su facebook un rapporto su cosa aveva fatto e come aveva operato io non l'ho trovato e il mio mestiere per un po' ho pensato di essere rincorbellito invece non è un problema di trasparenza noi non abbiamo gli strumenti per valutare come facebook ha operato e ci hanno informato che 2,5 milioni di follower in italia non avevano più delle pagine su facebook da consultare che prima consultavano perché perché quelle pagine diffondevano disinformazione lo ha fatto di sua iniziativa facebook no no ha ricevuto delle segnalazioni e l'associazione che ha fatto queste segnalazioni poi ha fatto un bel report qualche giorno dopo in cui ha spiegato bene quali sono i siti che ha e le pagine che ha segnalato quali sono state cancellate e quali invece non sono state cancellate e meriterebbero di esserlo il rapporto questo invece lo trovate online di Avaz si chiama far right networks of deception in cui Avaz è molto esplicita e anche sincera ce l'abbiamo con la destra estrema ecco chi la fa la valutazione di cos'è ingannevole vi faccio questo esempio e chiudo perché questo ci rende evidente qual è la diversità dello schema rispetto ai media tradizionali nei media tradizionali se le idee della far right non ci piacciono troveremo uno spazio in qualche altro mezzo di informazione per dire la nostra e dovrà essere reso disponibile al cittadino utente che quelle idee di quel tipo circolano su determinati giornali quotidiani testate telegiornali and so on che hanno quei riferimenti ideologici quei proprietari eccetera e di qua ce ne sono delle altre invece in questo sistema quando a me non mi piacciono le idee della far right scrivo a facebook e facebook gli cancella il profilo non ci sono verità che si confrontano ci sono rappresentazioni del mondo che spariscono non è proprio lo stesso sistema e questo a me un pochino preoccupa perché non ne sappiamo ancora abbastanza e adesso nel secondo giro proverò a dirvi perché non ne sappiamo abbastanza e la cosa merita di essere approfondita ma intanto le cose stanno andando avanti le cose stanno andando avanti c'è una una fuga in avanti su questa questione e dal punto di vista della libertà di informazione quest'idea che i cittadini siano dei minus abens rispetto ai quali prevalgono in maniera netta esigenze di protezione rispetto a quelle di garanzia della loro libertà di scelta anche delle idee anche se non ci piacciono mi pare molto preoccupante grazie della vostra attenzione grazie Grazie.